Un incontro dappertutto ha la stessa situazione, c'è purtroppo grande incertezza, mancanza di determinazione da parte dei sindaci, mi dispiace dirlo ma noi ormai siamo alle porte di una modifica del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti e i sindaci devono assolutamente assumere delle scelte e mi pare che non siano ancora pronti a farlo. Lì dove i comuni non facciano quello che devono fare siano a fare per loro la provincia, la regione o il governo centrale. Lei ha proposto recentemente proprio il passaggio alla società provinciale cambiente ma in questo contesto in cui le province verranno meno come potrà essere attuato questo? Ma intanto è solo un'assunzione di responsabilità proprio per non lasciare il problema ai cittadini e ai lavoratori che rischiano di trovarsi il primo luglio senza un datore di lavoro, i lavoratori, senza chi si preoccupi del servizio, i cittadini. Noi abbiamo detto come provincia siamo pronti ad assumerci questo gravoso ed enorme onere e compito. Come poi questo si possa attuare? Lo si farebbe per un periodo transitorio e ovviamente si unisce a questo la nostra proposta di trasferire la proprietà della società provinciale ai comuni.